Quali sono i progetti per migliorare la sanità delle aree interne? La domanda richiede una risposta molto vasta, le dirò in generale che noi siamo arrivati al punto di doverla far ripartire, specialmente la sanità delle aree interne e in particolare quella delle zone disagiate, dove abbiamo un ospedale agnone e dove mi sto proponendo di dotargli di una struttura minima per far sì che possa accogliere i pazienti di quell'area. Abbiamo poi le cure palliative, abbiamo l'ospice Madre Teresa di Calcutta di Larino che è un'eccellenza per noi e vorremmo in maniera sotto forma di collaborazione che chiederemo al direttore dell'ospice, il dottor Flocco, vorremmo migliorare il servizio a domicilio, quindi la rete domiciliare su tutta la regione.